E' la festa di tutti coloro che sono impegnati in lavori che hanno a che fare con il fuoco e materiali pericolosi. E' il giorno di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco e protettrice dalle morti violente e dai fulmini. Anche in campagna, a partire da Napoli, come tutti i comandi d'Italia, si sono svolte solenni celebrazioni. Una ricorrenza come ogni anno molto sentita, sia dal personale in servizio che da quello in congedo. Un'importante occasione per ricordare il grande impegno quotidiano al servizio della gente. Di un corpo di polizia che meriterebbe una maggiore attenzione retributiva, oltre al rafforzamento del personale e mezzi operativi. In festa per il secondo anno consecutivo in Irpignia il distaccamento di Grotta Minarda, una delle sedi più operative sul territorio. Il territorio di competenza del distaccamento abbraccia 32 comuni. Quest'anno, dal 1 gennaio 2016 ad oggi, ha effettuato 960 interventi. Questo a dimostrazione che quotidianamente le squadre del distaccamento sono sempre impegnate. Anche Grotta Minarda, questo è il secondo anno che il personale ha voluto fortemente celebrare la Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche qui al nostro distaccamento di Grotta Minarda.